Ma arriva primo sul pallone, bene, D'Angelo che segue poi schiavone, ancora D'Angelo dentro per i sobbittati, sono abitati il tiro, è il gol, è il gol, è il gol! Luca Bittante, la favola di Bittante, la favola di Bittante, l'infortunio di Chiaveri, rientra in campo alla Spezia e va a segno!